Si aspettano migliaia di persone per la 29esima edizione del Pellegrinaggio del Fante, che si svolgerà domenica mattina nella zona sacra dei Fanti della Val Magnaboschi, a Cesuna di Roana. L'altopiano accoglierà ancora una volta i Fanti e le associazioni combattentistiche ed arma, oltre alle autorità militari e civili, con il sindaco Elisabetta Magnabosco e il presidente dei Fanti Vicentini Manuele Bozzetto, e le tantissime persone che vorranno tributare un saluto, un pensiero, una preghiera a chi ha dato la vita in quei luoghi più di cent'anni fa. La cerimonia vuole rendere omaggio infatti alle migliaia di caduti durante l'offensiva di primavera del 1916, per non dimenticare mai.